fai la raccolta differenziata? usi la bicicletta per spostarti? usi i mezzi pubblici per spostarti? hai ridotto all'osso l'uso della plastica? non sprechi l'acqua? fai sempre scelte che sono attenti all'ambiente brava stai andando incontro verso una vita tutta green e oggi parliamo anche della lana rifatta non so se hai sentito mai il termine ma perché? come si rifà? si ricicla attraverso indumenti di lana vecchi oppure scarti di lavorazione ma è bella come la lana nuova? sì perfetta come la lana nuova perché questo lavoro che vanno a fare questo riciclaggio rende questi tessuti morbidi e con le stesse caratteristiche di un tessuto nuovo di alta qualità e hanno le stesse proprietà termiche e traspiranti tipiche della lana ma è una realtà nuova? no non è una realtà nuova ma è una lavorazione antichissima ma la rigenerazione di questa lana protegge l'ambiente? fa bene l'ambiente la risposta è sì perché comunque va permette di ridurre il consumo dell'acqua di CO2 di risparmiare energia e di non usare coloranti chimici se questa cosa ti ha interessato non devi fare altro che fare una bella ricerca su internet e vedrai che troverai tante belle realtà pronte ad accontentarti l'abbiamo